Grazie per tutti, questo premio è molto importante perché premia la figura del cliente come creatore di cultura, consapevole che una buona opera di architettura non è solamente il disegno, il design, ma è molto sforzo del cliente per la collaborazione dell'arte e dell'architettura. Tanti grazie per il mio cliente Virginia Cardarelli che ha possibile questa opera molto importante. Grazie a Virginia per fare possibile questa opera. Tanti grazie.